Life is Strange Chloe, che a quanto pare siamo giunti in questo fienile Dove nella scorsa puntata pensiamo di aver trovato il posto in cui dovrebbe trovarsi Rachel E dobbiamo trovare un modo per appunto entrare in questo fienile Vediamo un po' Oh, ci può spostare? Oh, facendo a caso eh Come sempre Lascia perdere la porta principale, vieni qua Oh, sì, Maximus rules God, this is way too Blair Witch I have goosebumps all over È inquietante Hey, check out this old chest A little louder, Chloe Jeez, that is ancient Jackpot Old shit No, look closer Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcade Bay Prescott industry celebrate grand opening The Prescott spring bomb shelter boom to town Nice scrapbook You search for more clues and I'll scope out the area Porco cane Porco cane I Prescott Un sacco di roba Che potrebbero affarsi un museo Oh, un vecchio trattore Ma le tracce saranno del trattore quindi No, non sono della No, una foto Wow, Sir Talk about home on the range Bottone arrugginito Però aspetta Prima di premere il bottone Che non si sa mai Guardiamo anche queste Ah, è lui? Sembra rispettabile lui come tipo Aspetta, però qua mi dice di cercare Ah no, cassa Allora, allora Vediamo Vai c'era il bottone se non erro Vabbè per le carrucole, ok? Un forcone Gli avevo visto Avevo visto delle scale comunque O mi sono sbagliato io Mi sa che mi sono sbagliato io Qui ho fatto tutto E dentro non c'è niente Facciamo la foto No, volevo fare la foto all'uccellino Donato Ah no, sono del SUV Di un SUV Possiamo fare altro Possiamo fare altro Non c'è altro da vedere Non c'è altro da vedere Perché dentro non c'è niente Aspetta, c'è la cassa qua No, la lista della spesa Cosa c'è? troppo fieno non c'è niente da nessuna parte non guardare sempre per terra oh mi sa che mi è entrato qualcosa ok apriamo il lucchetto mi serve qualcosa per poterlo aprire no piattaforma arrampicati cohi puoi mi dare una mano? piattaforma 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 questo gancho collega ok ok poi lo facciamo cadere ci arrampichiamo sopra ancora no qualcosa di più pesante vuoi vedere che devo scendere da dove sono salito io? da qua quasi tutto pronto mi serve qualcosa no non lo posso prendere ecco qua tantissimi 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 non c'è niente non c'è niente? non c'è niente 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 Buongiorno a tutti 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 Allora vediamo il messaggio di Warren che ci è arrivato Ma era per la storia lì del pestaggio che hanno fatto prima Ok Una cassaforte No cavolo Come facciamo? Allora Vediamo un po' L'ho provato un po' tutto off camera ma Vediamo se Questa dovrebbe essere giusta Si perché off camera sono andato un po' in giro a cercare Mica cercare Fare Mica fare Ma proviamo questi numeri Laboratorio segreto? Vero C'è del cibo però Una lettera E Nathan quindi ha dei problemi Nostro adesivo Nostro adesivo Ma cosa è? Uno studio per modelle Eh non credo Date l'immagine qua però C'è della droga Una bottiglia Dei giornali La scomparsa di Rachel Avendo trovato sta cosa però Solo Prescott potrebbe avere Con tutti i soldi che c'ha Solo lui può avere Non ho mai visto Non ho mai visto Tant'attività di prezzi Adesso Posso immaginare Chilling in questa ruota? Aspettate Provami questa credenza Oh Rachel Kate Come on Let's see what this shit Is all about We are Okay A binder marked Victoria But it's empty Look the next one Says Kate Oh no Kate No God I should have killed That bastard back there Kate wasn't the first All those binders Are filled with other victims Victoria has to be next Nathan must be planning To dose her tonight At the Vortex Club party Rachel This can't be These are all These are all post shots Right? Right? Chloe Look at her face She's Out of it Maybe Maybe Nathan Paid her a shitload of cash To do this She probably would have I don't think so Why is he putting her In the ground like that? Where? The junkyard Max We have to find that spot Now Then we can see what he did There's no way she's dead No way She posed for those pictures Max I know it Please Let's go Oh my God Rachel Kate All these Rob Let's see what's in here Oh my God No Wow What is going on Between Nathan and his father Cacchia rollo No no La famiglia Prescott È tutta da rinchiudere Ragazzi Dovevamo fare qualcosa Andiamo No no ì E dove? Dove corri? Ma usare una falon qualcosa? C'è l'aveva seppellita? 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 C'è l'aveva? C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva seppellita, Warren. C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva seppellita? C'è l'aveva? Beh, non lo scopo, Warren. I know, I know. I'm painting the booty. Just one picture. Uh... Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultraviolence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Hi, can I take your coat or anything? No, I didn't see any tablet with catpicks. Okay, where the hell are you? Molto! Bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Siamo al culmine di questo quarto episodio di Life is Strange. Abbiamo trovato i resti del corpo di Rachel, ma credo che non siano i suoi, perché sarebbe troppo triste come cosa. Quindi, il mio intuito mi dice che ancora non è del tutto chiaro. E quindi mi sa che ci spettano molte altre sorprese. Quindi io vi invito a lasciare come sempre un bel like, commentare, condividere, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E... Alla prossima! Ciao belli!